Asso 5 Speed Asso 5 Speed, economicità ed agilità sempre e salvaguardando la qualità del lavoro. Questi sono i punti di forza della nostra linea di Riders. Larghezza di taglio da 67 o 76 cm. Cambio meccanico a 5 velocità più retromarcia. È possibile montare un deflettore posteriore per effettuare il taglio dell'erba senza il cesto di raccolta.